Il comune di Ravanusa dice basta alla gestione della dedo all'ambiente. Il sindaco Carmelo D'Angelo ha firmato l'ordinanza condigibile e urgente al fine di assicurare il proseguo regolare dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio. Ravanusa esce pertanto dall'ambito territoriale ottimale AG3, costituita in attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza commissariale del 2002, di cui facevano parte i comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Licata, Naro, Palma di Montechiaro e appunto Ravanusa. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel lato AG3 è proseguito sotto regime commissariale sino al 30 settembre, con ulteriore proroga, ma il sindaco ha notificato all'assessorato regionale delle energie e dei servizi di pubblica utilità a Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti di voler procedere per le proprie competenze, facendo tesoro della circolare in cui si invitavano le amministrazioni a predisporre con estrema urgenza tutti gli atti necessari per garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ribadendo che le funzioni dei commissari straordinari presso la società d'ambito cesseranno improrogabilmente il 30 settembre 2014, data che invece ha subito un'ulteriore proroga al gennaio 2015. Sulla nuova deliberazione abbiamo sentito il liquidatore di De dell'Ambiente, Rosario Miceli. Uscire parzialmente, perché il sindaco, rispetto diversamente dal sindaco di Canicattè, vuole i mezzi e gli uomini, quindi gli uomini e gli operai in comando. Detono rimane sempre in capo al proprietario e quindi da toro del lavoro, però la gestione la fa direttamente il comando. Quindi i nostri dipendenti prenderanno le disposizioni, saranno fatte dal sindaco e quindi dai suoi uffici. Il sindaco di Ravanusa, richiamando la nota dell'ASP di Agrigento, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ravanusa, nella quale il dottore Nobile ha comunicato che per mancanza di lavoro periodico vi è una presenza di rifiuti al di fuori degli stessi e di materiali non assimilabili ai rifiuti urbani, al fine di garantire il servizio di gestione dei rifiuti e al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo per la salute e l'igiene pubblica, nonché per l'incolumità dei cittadini, ha ordinato che il servizio venga svolto direttamente dal comune di Ravanusa per il tramite dei propri uffici per avere un più diretto controllo amministrativo ed operativo sull'intero territorio. Dopo il sindaco di Canigattì, anche quello di Ravanusa ha pertanto firmato il provvedimento di fuoriuscita utilizzando gli addetti al servizio di gestione integrata d'ambito ed operanti prioritariamente nel comune.